Buonasera a tutti, è con vero piacere che apro questa serata organizzata dal Lions Club Biella-Pugella Civitas, che ho l'onore di presiedere. Il concerto della banda giovanile musicale del Piemonte è stato organizzato in collaborazione con la città di Biella e col patrocinio della provincia di Biella. Ringrazio sia la città che la provincia che hanno voluto condividere con noi questo evento e saluto tutte le autorità, tutti insieme e i presenti. Il concerto è stato voluto dai Lions sia per offrire ai tanti giovani che compongono questa banda l'opportunità di far apprezzare, conoscere il proprio talento e poi per la raccolta fondi del nostro service annuale che per il secondo anno è destinato all'assegnazione di borsi di studio per studenti delle scuole medie e superiori in difficoltà economiche e con disagi familiari. Pensiamo che sia doveroso sostenere i ragazzi e le ragazze che conseguono ottimi risultati scolastici pur trovandosi in condizioni difficili ma che credono e si impegnano nella nostra costruzione e nella costruzione del loro futuro. Questa sera ogni vostro contributo che darete all'uscita alle socie e ci aiuterà ad aumentare il nostro servizio. A nome dei Lions che ricordo far parte di tutti i nostri amici.